5.000 fan seguono da mesi su Facebook la sua battaglia per la vita. Artù è un Jack Russell di 9 mesi affetto dalla nascita da megaesofago, una rara anomalia dell'organo interno che impedisce la deglutizione e l'assimilazione del cibo. Artù sarebbe morto se la sua strada non avesse incrociato quella delle volontarie dell'associazione Occhi Randaggi di Bari. A gennaio scorso, quando era un cucciolo, pesava solo qualche centinaio di grammi. Le volontarie lo hanno fatto operare in una clinica veterinaria specializzata barese, grazie al denaro raccolto attraverso le donazioni dei fan del cagnolino su Facebook. Oggi Artù pesa 2,5 kg e sprizza energie e voglia di vivere incontenibili. Una scommessa vinta per le sette volontarie di Occhi Randaggi, che da tre anni operano in tutta la provincia di Bari per aiutare gli animali in difficoltà.